La giunta comunale di Castellabate, guidata dal sindaco costabile Spinelli, ha deciso anche per quest'anno di realizzare un centro estivo per minori. Lo scopo del progetto è quello di aiutare i genitori che non possono occuparsi dei propri figli a causa del lavoro estivo, integrando le attività del piano di zona S8. Il progetto prevede un servizio di ospitalità per i bambini da 3 anni fino agli 8 anni, tutti i giorni, dal 1 luglio al 31 agosto, dalle ore 8 alle ore 13 e 30 con esclusione delle domeniche del 15 agosto. Le attività svolte presso la Scuola Materna di Santa Maria variano dall'animazione all'intrattenimento come giochi, letturi animate, passeggiate, disegni, attività manuali e didattiche, anche in lingua inglese, grazie alla rinnovata collaborazione con la Kansas State University. L'iniziativa giunge a seguito delle richieste delle famiglie e intende anche per quest'anno riproporre un servizio che andrà incontro alle esigenze dei genitori. L'attuazione dell'iniziativa progettuale sarà espletata da una cooperativa sociale con quattro operatrici. Interessati possono procedere all'iscrizione compilando il modulo scaricabile online o in distribuzione presso la sede comunale e il segretariato sociale, sito in via Roma, oppure telefonare al numero 0974 96 01 47 o presentando il modello al protocollo dell'ente entro e non oltre il 26 giugno allegando la documentazione richiesta. Il numero degli iscritti non potrà essere superiore a 30 bambini. In caso di esubero verrà applicata la graduatoria in base al reddito rilevato dall'attestazione ISEE valida. Un aiuto concreto per i genitori visti i nuovi bisogni legati al mutato mondo del lavoro, dichiara l'assessore alle politiche sociali del comune di Castellabate Elisabetta Martuscelli, soprattutto in un comune turistico che vede il più alto tasso di occupazione proprio durante il periodo estivo. Il nostro centro per minori rappresenta ormai un punto di riferimento importante e fortemente voluto dalle famiglie, oltre ad essere un luogo sano e ben organizzato che favorisce la socializzazione e l'inserimento dei bambini.